C'è uno ricoverato all'ospedale che ha avuto un incidente e praticamente è rimasto amputato al pene. Il professore gli fa, guardi, con l'assicurazione lei ha 4.000 euro di bonus e io rientro in questi parametri, diciamo, le posso ricostruire un pene che va 20 euro al centimetro, però se deve mettere d'accordo con sua moglie, perché le spiego, se fa un pene di 19 centimetri e sua moglie è abituata con uno di 12, le farà un po' male, se invece lei fa un pene di 12 centimetri ma sua moglie è abituata con un pene di 19 centimetri, non sentirà un cazzo, però se metta d'accordo con sua moglie e mi faccia sapere, questo parla che ha moglie e il giorno dopo arriva il professore e gli fa allora, ha parlato con sua moglie, dice sì, sì, è che avete deciso, ma sa, mia moglie ha detto che con 4.000 euro d'assicurazione cambia la cucina perché la usa di più.